10 milioni di euro in favore degli enti locali per realizzare interventi di messa in sicurezza, recupero, sistemazione di siti di rilevanza storica e garantire continuità alle attività di ricerca con veri e propri laboratori di fruizione che vedano i comuni in prima linea come proponenti ma anche attuatori di interventi per i quali sarà attivata ogni collaborazione con le soprintendenze all'archeologia, delle belle arti e paesaggio. Lo stanziamento è stato approvato nell'escorsione dall'Aggiunta regionale su proposta dell'assessore competente Massimiliano Brahi. Gli interventi in questione con l'obiettivo di implementare i flussi turistici ma anche di diversificare i target indirizzando le iniziative ai più giovani potranno essere finanziati con un contributo massimo di un milione di euro per ciascuno. Saranno considerate ammissibili a finanziamento iniziative che riguarderanno aree e parchi archeologici nella piena disponibilità degli enti locali, soltanto se gli stessi interventi saranno in grado di prevedere anche attività di ricerca scientifica, storica ed archeologica, così da favorire il miglioramento delle conoscenze sul patrimonio esistente e ogni azione di tutela conseguente.